Ulteriore e con Miret nel podio dei migliori portieri italiani che cercherà di guadagnarsi Bianconera proprio con la maglia. Bianconera da Juve, in nero invece Ronaldo. E vediamo come lo sostituirà, si parte, si comincia con Ronaldo, avanza, punta all'area di rigore. Ancora Ronaldo, doppio passo, se la sposta sul sinistro, calcia! Alto sopra la traversa, sorride. Il doppio passo sì, palla che poi è rimbalzato, c'era stata anche la buona copertura di Caffellini. Si qui, si sta disimpegnando bene. Vediamo se succede qualcosa. Stavolta Ronaldo per Bernardeschi, qua è Ronaldo dentro, Ronaldo la fa passare pensando di avere... Allora c'è, allora, scusitiamone per tornare in diretta, che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo, che è solo la posizione regolare. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! La prima volta in bianco-nero. Mette la palla all'incrocio, batte Loria, freddissimo, su una splè, inevitabilmente Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i suoi. Ci aveva provato con un sinistro alto poco fa. Un po' da NBA, buono per schiacciare nell'anello, ma qui colpisce la palla di testa. E la manda alta, sopra la traversa di Loria. Pezzo forte della speciale, quanto stacca di testa a Rulla scorsa. Sarà da divertirsi davvero per lui, mentre molto bene, con buona personalità, Capellini. 70 metri, che lancio di Bonucci, che palla per Ronaldo, in area di rigore. Ronaldo non riesce a trovare la doppietta, il gol del 2-0 in due tocchi. La Juve è andata in porta da un'azione pericolosa della primavera con Ronaldo. Aspetta Alexander, lo serve sulla corte. Sale Bonucci, va a impostare in verticale, ancora per Ronaldo, ancora regolare. Ronaldo prova a resistere, c'è deviazione. Una buona partita fino adesso, Capellini a evitare di toccare il pallone male e a battere Loria. 2-0 per la Juve sulla primavera, quasi Cristiano Ronaldo doppietta. Lancio di Bonucci ancora, il secondo in due minuti, che riesce. E poi Anzolini anticipa Ronaldo e infila la porta sbagliata. Gol del 2-0, uno la colpetta. Ronaldo, ancora Ronaldo, lascia lì, Bernardeschi sbaglia. Ronaldo di nuovo, la palla non entra, salva Capellini. Juve poco cattiva qui. Poi a quadrado, in area Bernardeschi, Ronaldo e Bentancur. La palla arriva per Ronaldo. Loria in qualche modo, poi di doppietta e fa 4-0. Bella azione della Juve. Buon dialogo tra tutti. E sul filo di Ronaldo arriva il gol di Balas. La spinta un po' goffa di Loria stavolta. Questa la palla per il portoghese. E' arrivato al sesto tiro in porta. Attenzione, attenzione, attenzione. L'abbiamo chiamata Giovanni, l'abbiamo chiamata. E' partita l'invasione di campo a Villarferosa. Credo che non si... Per cercare di prendere la maglia, l'autografo, il selfie o qualcosa di simile. E arrivare a casa con un ricordo di questa grande giornata. perché sono tutti, tutti in campo. Abbiamo giusto detto. Evidentemente... Ah no, eccolo Giovanni. Eccolo. Dove ti sei nascosto Giovanni? Sono adesso nella zona riservata alla stampa. Comunque mi sto godendo lo spi... Scrizione e revisione a cura di QTSS! Agro poliesi! Grazie a tutti!